Oggi a Valdieri con il Kick of Meeting comincia ufficialmente questo live per cinque anni di lavoro dedicato al lupo nell'arco alpino. Siamo reduci però da un altro importante live che ha ricevuto anche un premio. Cosa significa per voi essere così protagonisti attivi di questi programmi europei? Ma sicuramente per quanto riguarda il lupo è una grandissima necessità. Noi hai vent'anni che lavoriamo sul lupo, il lupo non conosce confini né regionali né internazionali, quindi questo progetto live a livello così di regione Piemonte è partito e ha ereditato quello che era stato il lavoro del progetto lupo Piemonte che già aveva fatto un grosso coordinamento, è cresciuto e è riuscito a coordinare tutti gli enti che lavorano sulla questione lupo e convivenza a livello di regioni italiane e con questo nuovo live ci siamo portati al di là dei confini e quindi si raggiungerà l'intero arco alpino per una gestione della specie totalmente coordinata dalla Francia e la Slovenia. Quindi insomma seguire tutto questo processo negli anni è interessante.